Bentornati e bentornate all'Ex and Love Books. Oggi riprendiamo e riprendiamo col botto, come si direbbe, perché la nostra prima ospite 2022 è Sabrina Grementieri. Ciao Sabrina, benvenuta. Ciao a tutti. Allora, Sabrina, sappi che questa è una rubrica molto autogestita da parte tua e quindi io comincerai subito con l'invitarti a presentarti. Chi sei? Perfetto. Allora, io come dicevamo mi chiamo Sabrina Grementieri e diciamo che siccome al momento sono qui nel mio ruolo di scrittrice dirò che scrivo da ormai dieci anni, ho pubblicato diversi romanzi, di narrativa e quindi insomma sta diventando all'inizio era una passione, poi sempre una via di mezzo tra passione e professione e ci stiamo avviando all'essere professione a tutto tondo. Ciò nonostante faccio anche altre cose, quando mi chiedono cosa fai, di solito dico varie ed eventuali, mai scrittrice perché in effetti faccio un sacco di cose, sono un po' curiosa e quindi mi intrattengo in varie cose, però ecco diciamo che la scrittura è sempre stata una grandissima passione assieme ai viaggi e quindi quando viaggio trovo gli spunti e poi scrivo e poi viaggio, insomma questo è un po'. Ottimo Incipit per presentare la tua creatura, eccola qui, La notte della concordia, edita da Bur Rizzoli che sarà il grande protagonista della nostra chiacchierata. Io l'ho letto, non posso negarlo, me lo sono proprio divorato e l'ho trovato molto gradevole nonostante il tema. Cominciamo a quindi dire a chi ci ascolta di che cosa tratta questo tuo volume? Allora, diciamo che il titolo è molto esplicativo, La notte della concordia, parliamo di questa di questa grande tragedia che c'è stata dieci anni fa all'isola del Girlio, del naufragio della costa concordia. diciamo che questo libro è nato dal desiderio del protagonista di lasciare traccia un po' di una parte della storia, di una parte di questa tragedia che è sempre stata meno sotto i riflettori, ossia il lato umano, il lato altruistico, il lato sentimentale proprio a livello di sentimenti umani e di emozione umana, perché si è trattato tanto della questione giudiziaria, di mescolare sempre le carte perché comunque i pettegolezzi sono quelli che fanno più audience, però in realtà dietro i riflettori, dietro le quinte c'è stato un mondo di persone che si è sacrificata, che ha messo a rischio la propria vita, che ha dato tutto quello che aveva e quella notte per soccorrere i bambini, le donne, gli anziani, tutti quelli che avevano bisogno e noi si voleva parlare di questo, perché alla fine le medaglie tra virgolette sono state magari date a chi ha fatto più clamore mediatico, ma chi davvero ha fatto tanto è rimasto sempre nell'ombra. E allora il protagonista Mario Pellegrini, che è l'altro nome che è in copertina insieme a me, che allora era il vice sindaco del Giglio ed è stato il primo a salire come soccorritore sulla nave, l'ultimo a scendere, lui ci teneva, ci teneva che si parlasse anche di queste persone, per cui è nato, è nato così. Ed è nato da un tuo viaggio, come dicevi prima. Eh già, io così ho avuto, io così ho dedotto. Esatto, sì, perché io ero andata all'isola del Giglio in vacanza e tra l'altro Mario Pellegrini gestisce un faro, quindi un posto molto affascinante. Tu ci darai assolutamente l'indicazione, perché io l'ho già detto Enrico, noi dobbiamo andare, assolutamente. Hai fatto bene, è un posto veramente splendido. Io tra l'altro sono stata fortunata, perché essendo una che ama viaggiare da sola, sono andata in maggio, che dovrebbe essere una stagione stupenda, e invece c'era, era nevicato poco prima, non al Giglio, ma sul Monte Amiata, sull'Appennino, dappertutto. Quindi c'erano state disdette e io ero, ero sola. L'ideale per scrivere, perché io ero andata per scrivere il penultimo romanzo, a questo punto Esprime un desiderio che è uscito prima di questo, e lì ho conosciuto il gestore di questo faro. Ma io non sapevo chi fosse lui in relazione alla Concordia. Lui all'inizio non sapeva che io scrivessi, insomma chiacchiere e chiacchiere escono fuori un po' queste cose. E quindi niente, non è nato lì, devo dire la verità. La curiosità, il desiderio suo che potessi farlo io è nato lì, la mia curiosità è nata lì, però poi ci sono voluti un po' di mesi, diciamo così, per far farla metabolizzare. E intanto, insomma, io mi sono goduta il faro, l'isola, il silenzio, i gabbiani e tutte queste cose qua. Io non so se voi ve ne siete accorti se sia un caso, ma dietro le sue spalle c'è un faro. Il faro. Io ho sempre avuto due passioni, i fari e i castelli. E quindi nei miei viaggi uno dei due ci deve essere, andare a visitare. E niente, tra l'altro anche nel libro un pochino si parlerà anche del giglio, del giglio a livello proprio ambientale. Però mi dicono sempre che il mio amore per i viaggi traspare dalle, mie parole, è più forte della ragione, insomma. La narrazione nella Notte della Concordia è una narrazione molto leggera, non usa alcuna enfasi, non c'è del sensazionalismo. Hai veramente modellato questo tuo diario di bordo a questo punto in modo elegante e sempre molto leggero. È una tua caratteristica e quindi è filtrata nel libro o è stata una scelta stilistica voluta? No, no. Diciamo che questa è la mia cifra stilistica, nel senso che quando mi è stato, insomma, quando abbiamo deciso di provare a scrivere questo libro io avevo davvero tanti dubbi perché io vengo dai romanzi, dalla narrativa, per cui insomma era una sfida importante. Però ecco, quando abbiamo deciso che comunque il cuore dovesse essere quello umano, quello leggero, quello non sensazionalistico perché proprio quello non sarebbe nelle mie corde, allora ho detto provo, proviamo. Se rimaniamo comunque in quello che mi appartiene, magari riesco a esprimere meglio quello che questi protagonisti vogliono dire. A quanto pare ha funzionato perché è il primo editor di Ristoli che lo lesse, rimase piacevolmente colpito e io più di lui perché, insomma, esci in una collana che non è narrativa, in una collana legata alle inchieste, ai documentari, a queste cose qui. Insomma, io una strizza ce l'avevo e quindi ero un po' insicura su sta cosa, però alla fine potendo usare la mia penna, potendo usare le emotività che io uso nella scrittura, diciamo che insomma mi ha facilitato l'impresa. Evidentemente con Mario Pellegrini deve essere scattata un'empatia immediata perché, adesso lo confessiamo, io conosco Sabrina da che scrive lei ed è vero io la conoscevo come una scrittrice di ben altro genere. Quando ho visto il suo nome legato alla vicenda, al di là di correre a comprare il libro, ero molto incuriosita. Alla fine del libro devo dire che è la scelta giusta, perché qui Pellegrini voleva raccontare la notte dei soccorritori, delle vittime, degli aiuti e perché no anche dei dispersi, perché comunque si accenna. C'è un grandissimo assente in questo libro e la sua assenza urla a ogni pagina. Scelta tua, scelta sua, scelta dell'editore? Scelta nostra, mia e di Mario, poi dopo avvallata anche dall'editore. Ma qui è l'assente. E l'assente è il comandante Schettino naturalmente, però insomma del comandante Schettino sono dieci anni che si parla e ormai è entrato negli aforismi, no? Quando si parla di qualcosa che può andare storto, la battuta ormai ha il suo nome. Per cui insomma di lui se ne era parlato tanto e siccome noi volevamo dare proprio tutt'altro taglio al libro, coinvolgere lui diventava un po' rischioso perché rischia di cadere di nuovo in un discorso di polemica, di critica, di giudizio, che non era nostra intenzione. Al giudizio ci hanno già pensato gli organi preposti e a noi non interessava, davvero ce l'hanno chiesto spesso, infatti ci avevano avvisato in redazione che ce l'avrebbero chiesto spesso, ma la scelta è stata ben voluta dal primo giorno. Eravamo determinati sul non nominarlo, ma semplicemente perché non era la sua storia in quel momento lì, non era davvero la sua storia e quindi è andata così. Il vostro libro non è nemmeno la storia delle cause, delle responsabilità del naufragio, degli esiti processuali, è proprio il fotogramma minuto per minuto in certi attimi di che cosa accadeva sulla nave. Va da sé, questa sarà una domanda scontata che vi avranno fatto mille volte, che un altro elemento di forza di questa narrazione è che a tratti evoca il Titanic, è inevitabile pensarci, se non altro, perché stiamo parlando di una nave da crociera, affollatissima, di una notte fredda, lì c'era stato un iceberg, qui comunque era gennaio, e c'è gente in abito da sera. Ecco, questo dettaglio non credo fosse emerso bene quando se ne parlava nei telegiornali, cioè il fatto che queste persone rischiassero l'ipotermia e il fatto che Pellegrini dica, per tua voce, in molti tratti che cercavano il modo di coprirli, perché avevano freddo su quei punti e c'erano le pare degli elicotteri sopra di loro che il freddo lo aumentavano. Ecco, questo devo dirti che mi ha emozionato, e tuttora mi emoziona moltissimo. C'è il tocco della donna, ma lì il riferimento a questo uomo che a un certo punto cede anche la sua felpa, è veramente toccante. Sì, sì, no, ma infatti queste cose a suo tempo, ma nemmeno dopo in realtà, sono emerse e sono dettagli che sono venuti fuori proprio perché ho incontrato questi personaggi, oltre a Mario siamo andati a incontrare l'ufficiale, il dottore, insomma, di vari protagonisti e gli ho chiesto loro di parlare proprio a ruota libera, partendo dalla pelle, dalle emozioni della pelle, di tirare fuori quello che dopo otto anni, perché questa avventura è iniziata due anni fa, dopo otto anni ancora avevano a livello di sensazione proprio, più che di memoria logica e razionale. E così sono venuti fuori i dettagli, poi tra l'altro quando si ascoltavano anche tra di loro, perché Mario mi ha accompagnato quasi sempre alle interviste, quindi sentire la sua storia, poi dopo sentivamo la storia dell'altro protagonista e insieme tiravano fuori altri dettagli. E qui si è proprio costruito il percorso, perché magari tante cose poi alla fine si potrebbero dimenticare, invece lavorare sul livello delle emozioni ha tirato fuori tante cose. Un altro elemento che mi ha stupito, perché lo ignoravo io stessa, è che i gigliesi siano stati così benevolenti, accoglienti, accudienti nei confronti degli ospiti della crociera. Si parla sempre dell'atteggiamento degli isolani di Lampedusa, ma non si è mai parlato del loro. Hai parlato anche con loro? Sì, sì. È stata la parte, diciamo così, più non tanto difficile, ma delle volte mi sono quasi sentita in imbarazzo, perché io non sono una giornalista, per cui non ho questa predisposizione, questa capacità di andare in giro, anche da persone magari che hanno vissuto vicende particolari, a chiedere i particolari, a tirare fuori. Quindi io entro sempre in punta di piedi e se vedo che c'è difficoltà, mi sento in difficoltà anch'io. E tanti gigliesi, a parte che alcuni proprio non ne hanno voluto parlare, cioè, e altri mi hanno detto, sì, vabbè, ma cosa potevamo fare? Quello si doveva fare. Cioè, per loro non è stata un'azione eclatante, è normale, uno è caduto, non lo aiuti a rialzarti. Questo mi rispondevano. E una di queste signore, Lady Colante, qualcuna proprio li vedeva intimiditi, non volevano venirne fuori da eroi, non volevano... cioè, avevano proprio paura che con questo libro magari li si dipingesse come chissà che, quando per loro avevano fatto la cosa più naturale del mondo. Cosa fai? Non aiuti uno che cade per terra? Certo che lo aiuti. Noi abbiamo aiutato. Però, cavoli, questi hanno aperto le porte di casa, hanno messo la roba da mangiare sulla tavola, hanno rifatto i letti e poi sono andati fuori a accoglierli in parrocchia, accoglierli... e chi camminava per il paese si trovava a una porta aperta, entrava, stava un po' al caldo, all'asciutto, cioè, delle cose incredibili. Adesso noi, tu stai a Milano e io sto comunque in una cittadina medio-grande, cioè, la porta di casa, sinceramente, l'apri tu. E l'ha chiusa. Eh, eh, capito? E invece loro avevano tutti i loro averi dentro casa, ma non ci si è pensato un momento, capito? Hanno aperto e poi, chiaramente, non tutti, nel senso, hanno fatto un'opera meravigliosa, però adesso non siamo qui a volere immolare sull'altare della gloria tutti, gli umani sono umani in qualsiasi contesto, c'è chi ha dato di più, c'è chi ha dato un po' meno, c'è chi non se ne è neanche accorto, perché era dall'altra parte dell'isola, per dire, nonostante sia piccola. Però in linea di massima hanno creato una rete talmente rapida, coesa, veloce, e senza tanta burocrazia, zero burocrazia, zero domande, zero ecce da fare, si fa. E è stato bene. Si telefonavano, cioè, hanno cominciato a telefonarsi e la prima reazione di tutti era ma cosa stai dicendo? Una nave! Ma cosa stai dicendo? Poi andavano alla finestra, è vero! E quindi si organizzavano, il fornaio che usa tutta la sua farina per fare pane, quelle sono parti veramente, secondo me ne faranno un film di questo, eh? E se non lo faranno, fateglielo fare, no? Dobbiamo organizzarlo perché veramente merita. No, magari no, ma un film, sì, ci sta. C'è un'altra cosa che ti volevo chiedere, sempre del lato umano, perché tu la butti lì, furbina, tac, la lascia lì e poi non la spieghi. Parli di rapporti che sono diventati amicizie e di rapporti che sono diventati anche qualche cosa di più. Sono io che vedo cuori dappertutto o l'hai detto davvero? No, no, ho conosciuto alcune coppie nate proprio in loco tra, non so, il soccorritore della marina con la gigliese, oppure anche perché considera che comunque l'avventura, tra virgolette, è durata più di due anni, perché dopo i primi mesi in cui appunto hanno cercato i dispersi, i soccorsi immediati, poi hanno cercato i dispersi, poi sono arrivati tutti coloro che si sono occupati quindi di portare via il carburante, di metterla in sicurezza, di studiare il modo di portarla via. Quindi veramente centinaia di persone che si sono alternate sull'isola e naturalmente ci sono state conoscenze, amicizie, sono nate anche delle storie d'amore, più di una. Adesso conosco un paio di coppie che hanno dei bimbi piccolini, quindi no, è stata, sì ecco, è bello, è bello perché comunque io ho sempre l'immagine del fiore che nasce in mezzo all'asfalto, la stessa cosa che comunque la vita, che comunque l'amore, i sentimenti, le emozioni riescono a fare breccia in qualsiasi contesto e da qualsiasi tragedia insomma. Quindi dai, questo era da dire. Poi le amicizie tante, per dire tu devi, parla con Mario, gli si sono affezionati tutti da Nick Sloan, che è quello che appunto ha progettato la, adesso non mi viene la parola, insomma che l'ha portata via sostanzialmente, ingegneri, militari, dirigenti, tutti. Cioè lui ha fatto un sacco di amicizie che durano tuttora, perché è gente che torna al Giglio, si trovano, escono insieme. Ma queste amicizie c'è sicuramente la Sabrina Grementieri, che chissà quante volte è andata al Giglio. Meno di quanto avrei voluto, perché purtroppo il Covid ci ha messo lo zampino, e quindi ho dovuto lavorare anche in remoto come adesso. Però, però devo dire che il Giglio, sono tornata adesso per la decennale, abbiamo preso delle giornate freddissime, ma con un sole incredibile, e quell'isola è magica, veramente, è proprio magica. Anche se l'hai vista tante volte, la conosci, resta magica lo stesso. Non abbiamo detto come si chiama il Faro, e come lo troviamo? Faro del Fenaio. Allora, sì, sull'isola ce ne sono due, hai due capi dell'isola, una è il Faro del Ferraio e una è il Faro di Capper Rosso. Il Faro del Fenaio è il resort di Mario Pellegrini, ed è a nord dell'isola, sì. Un posto difficilissimo da raggiungere, non ci vai in macchina, ti ci porta lui col fuoristrada, poi ti fai un cento metri in verticale, a piedi, però quando sei dentro sei una regina, sei proprio una regina, è un posto, l'hanno allestito veramente bene, insomma. Perfetto. Andate. Assolutamente andate. Allora, io, Sabri, ti saluto. Vi faccio vedere questo splendido, peraltro bellissima copertina, questo splendido libro. Oggi non abbiamo parlato di donne maltrattate, né di altri reati, ma ovviamente tutti noi sappiamo che un addentellato penalistico qui è sottinteso e quindi poteva stare ospite delle nostre rubriche. un omaggio a tutte le persone che in quella nocce si sono date da fare e poi hanno ribaltato il loro cuore su quelle persone che avevano bisogno. E grazie a te per averlo raccontato in maniera così suave. Grazie, grazie per averlo letto e per l'invito, sono molto contenta. Arrivederci a tutti, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao.